benvenuti su ricette flash oggi andiamo a realizzare una ricetta davvero unica la granita alla fragola deliziosa mi raccomando seguitemi e arrivano tantissime ricette buona visione per realizzare questa ricetta serviranno delle fragole molto mature così le tagliamo le fragole dovranno essere mezzo chilo e aggiungiamo 125 grammi di zucchero ci servirà anche un limone di cui estrarremo il succo e così li mettiamo con la pellicola a macerare per 45 ore vedete mi lasciano questo succo che sarà la base della granita che avrà un sapore deliziosissimo addirittura non usiamo neanche un frullatore per evitare che si riscaldino ma direttamente con questa paletta andiamo a schiacciarli direttamente nel setaccio man mano aggiungeremo l'acqua che è mezzo litro quindi mezzo litro di acqua mezzo chilo di fragole 125 grammi di zucchero e il succo di un limone una volta realizzata la base mescoliamo ovviamente abbiamo messo un po di zucchero prima adesso mettiamo la restante parte e andiamo a mettere la nostra granita in freezer così ogni ora andremo a mescolare oppure se non avete tempo all'incirca ogni paio d'ore dovete riuscire così vedete nel frigo si fa a mescolare con questa frusta è una ricetta semplicissima potreste anche utilizzare un'altra frutta l'importante che la frutta che usate sia molto matura e soprattutto dolce così vedete ci siamo quasi andiamo ancora a mescolarla meglio eventualmente se è il caso useremo anche una forchetta segui ricette flash stanno arrivando tantissime ricette e davvero grazie a tutti mamma mia quanti siete non prendo più il conto così andiamo a preparare i nostri bicchieri di granita alla fragola adesso ce la gustiamo e va bene questo è di pomeriggio noi mangeremo solo la granita per questa volta niente brush fammi sapere che ne pensi di questa ricetta è davvero deliziosa è veramente semplice vai sul canale ricette flash puoi trovare le altre granite come quella al limone la granita alle mandorle che breve ne farò anche una nuova versione e quindi non ti rimane che seguire il mio canale e tutti i social ricette flash ok il profumo è veramente delizioso e ripeto la realizzazione di questa ricetta è stata fatta tutta senza utilizzare nessun robot di cucina nessun frullatore se volete voi anche questa fase potreste un attimino amalgamarla leggermente meglio ma già così va bene ed eccola qua gustata anche voi quest'ottima granita alle fragole non ci rimane che vederci per la prossima ricetta seguite ricette flash grazie a tutti e vi ricordo che ricette flash cucina in un lampo ciao ciao